Se proprio non vogliamo non parliamo di cambiamento climatico, ma se ci guardiamo intorno non possiamo non prendere atto delle parecchie cose anomale che ci stanno succedendo. La natura è evidentemente in tilt a causa del caldo anomalo e della siccità. Si stanno prosciugando i fiumi. L'autunno 23 poi si classifica fino ad ora in Italia al terzo posto tra i più caldi dal 1800, con una temperatura di settembre che è stata superiore di ben 2,17 gradi rispetto alla media storica del mese se guardiamo dal 1991 al 2020, un trentennio. Questo secondo Coldiretti che riporta dati ISAC CNR. L'ARPA, invece l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, certifica che quasi tutti i corsi d'acqua si trovano sotto livello e soprattutto il Tanaro che è arrivato a segnare meno 40%. Per l'ARPA c'è un deficit idrico per quasi tutti i corsi d'acqua da inizio anno, dato dalle precipitazioni che sono giù dell'11%. In Piemonte alcune situazioni di siccità vengono definite anche severe ed estreme. Il caldo del livello di fiume è accentuato anche dai troppi prelievi per uso agricolo e inoltre poi il caldo influisce anche sul ciclo naturale agricolo. Basta guardare i banconi dei mercati per notare l'anomalia di frutta e verdura esposta che sono totalmente fuori stagione. I cicli di produzione praticamente sono sconvolti. Il caldo ha portato ad avere ancora frutta tipicamente estiva con albicocche, pesche, angurie, meloni e fragole che continuano ad occupare i banconi di supermercati e negozi con un solo d'autunno che ha alzato il grado degli zuccheri. Intanto ieri sul cambiamento climatico il Ministro per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica Gilberto Picchetto Frettin a Torino per i festival del digitale popolare ha dichiarato Siamo di fronte ad una generazione che sta chiudendo i conti con il negazionismo e il disimpegno climatico e non dobbiamo sottovalutarla. Una generazione digitale interconnessa dove le buone idee e le soluzioni innovative viaggiano molto più velocemente che in passato.